Sindaco, oggi è un appuntamento importante per il futuro della Teramo Ambiente. Di cosa si parlerà? È all'ordine del giorno, diciamo la partenza, lo start della gara, quindi diciamo con la delibera parte la gara per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale e per tutta una serie di servizi verde, servizi cimiteriali, verifiche impianti termici e segnetica stradale che sono in questo momento in pancia alla tema e che li manterrà. Con l'approvazione di questo argomento all'ordine del giorno parte la gara e quindi si va alla proroga di questi servizi. Ci sarà un emendamento che ha l'obiettivo invece di far sì che i 46 dipendenti restino ancorati all'azienda attraverso un'attività da mettere in atto in questo mese per raggiungere la cassa integrazione che è la scelta in qualche modo che si sta cercando di portare avanti appunto per far sì che questi dipendenti non rischino il minimo possibile. Questo è l'obiettivo, questo è quello su cui stiamo lavorando, devo dire, insieme all'opposizione perché il Partito Democratico su questo è allineato e sono certo che oggi lo dimostrerà in consiglio anche con il voto e questo insomma è quello che darà il futuro a questa società.